157 dipendenti della RAP sono stati iscritti dalla procura nel registro dei indagati. Nei giorni di feste natalizie, infatti, la città di Palermo sembrava una discarica a cielo aperto a casa del fermo del servizio di raccolta. Interruzione di pubblico servizio e inquinamento ambientale. Il procuratore aggiunto Dino Petralia e il sostituto Anna Battaglia, coordinatori dell'inchiesta, hanno ipotizzato siano questi i reati contestati a 157 persone. I magistrati, inoltre, sin dai giorni in cui scoppiò il caos rifiuti, avevano pensato che si trattasse di un piano studiato apposta per sabotare la raccolta. E infatti, molti dei dipendenti della RAP si sono proprio assentati il 31 dicembre scorso per una serie di motivazioni pretestuose, addetta dalle indagini delegate dai PM al Noe dei Carabinieri. Ma non solo. Ad emergere sembrava essere l'esigenza di fare volontariato e di donare il sangue, proprio alla vigilia di Capodanno. Altri sarebbero rimasti a casa per la febbre, altri ancora avrebbero ottenuto dei permessi speciali grazie alla legge 104 per assistere parenti disabili. Addetta della procura, l'emergenza rifiuti gioverebbe a qualcuno. L'inchiesta per inquinamento ambientale era stata aperta a carico di ignoti il 2 gennaio scorso. In procura era arrivato persino il sindaco Orlando, sentita come persona informata dei fatti, così come il presidente della RAP, Sergio Marino. In quell'occasione il sindaco aveva parlato di vergognosa e ingiustificata assenza dal posto di lavoro. Entrambi convocati, perciò, si erano resi disponibili a reperire i nomi di tutti gli assenti nei giorni intorno a Capodanno. È proprio così che si è passati all'escrizione di 157 persone nel registro degli indagati.